Musica Come avete visto dal titolo Come avete visto dalla miniatura Questo nuovo evento di Brawl Stars Food Brawl 5 vs 5 E... Che si... Increspature gelide ragazzi Lo andremo a provare con Tara Voglio provare Tara A portare Tara al Garo 15 Non so se riuscirò ma non mi interessa Ragazzi oggi siamo qua Per provare questo 5 vs 5 Food Brawl 5 vs 5 Ci proviamo ragazzi Noi ci proviamo E... Vi ricordo ragazzi Non lasciare un like Un'iscrizione nella campanella Condividere il video di tutti i nostri amici Seguidemi su TikTok e su Discord Quindi da 7 link in descrizione Sesto link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per comprare i miei t-shirt Per suonare di Xmax Se volete chiedere per Natale Fatele ancora in tempo Se fate 100% in conto In 100% in italiano Potete mettere sotto l'albero Tra l'altro diventerete moderatore Se le comprate Potete tenerle ogni giorno Mentre guardate la live Ogni giorno mentre guardate i video E... Vi ricordo ragazzi Se fate 100% in conto In 100% in italiano Diventate in modo Se le comprate Terzo link in descrizione Per fare una piccola donazione Basta 1 euro per supportarmi Diventate in modo Se fate una piccola donazione Guardo link in descrizione Per seguirmi su TikTok Alla faccia la va anche lì Questa è veramente con YouTube Alle ore 10 del mattino Oggi E... Niente Quindi ragazzi Non mancano tra mezz'ora In live per 10 del mattino Ragazzi Quindi saliamo in link in descrizione Per seguirmi su TikTok Su Discord Adesso sto in link in descrizione Per mettere i miei t-shirt E' ora di andare a giocare A Foodbro 5v5 Ragazzi Che tra l'altro E' molto di più che 3v3 Perché 3v3 E' il futuro normale Quindi in realtà In totale i giocatori sono 6 Mentre qua ragazzi In totale i giocatori sono 10 Come in sopravvivenza Quindi ragazzi Un pochettino Un pochettino strano E... Cioè sta mettendo un pochino Caricare Spero che non sia già iniziato Da partire Infatti è già iniziato In realtà Prendi la palla Allora E... Se non mi lagga Posso anche provarci Però mi lagga Vai Siamo 5v5 quindi Oh Ah quindi ragazzi Chi prende la palla Segna Perché la porta E' così E' gigante Grande Rix Max Mamma mia ragazzi L'ho fatta tutti io L'ho uccisi tutti io Ragazzi Succedendo Dai Spazio di archivazione Insufficiente Ma cosa vuoi No ragazzi Non hanno segnato Si Hanno segnato ragazzi Vabbè Molto molto nel chills Sto evento ragazzi Cioè se prendi la palla per primo Vinci Se non prendi la palla per primo Perdi E... Ok abbiamo capito Abbiamo capito Come funziona questo evento Però ragazzi Prima vittoria Molto male Molto molto male Cosa male Bene E... Ci ne manca un'altra per arrivare Anche al 25 Anche al 25 Io metto a reggio ancora Secondo me ragazzi Quasi tutti hanno detto no Quindi noi mettiamo sicuro Si perdiamo anche meno tempo Andiamo a giocare Vai Vediamo un po' Allora Prendi la palla Ci proviamo È un po' difficile Dai basta Buggarti Va sempre con il lag Sto gioco Quando registro Si pensavo che Squeak Non giocava Ragazzi Pensavo che Squeak Non giocava Invece gioca Pensavo che non giocava Ma invece Ok Vai Vai corri No dai Xmax Ti devi dare una svegliata No Non va bene Non va bene Ragazzi E niente Non ho segnalato loro Ragazzi Bisogna Scusate ragazzi Non sto parlando tanto Ragazzi Bisogna Bisogna Concentrare E niente Ragazzi Devo utilizzare La Udi Non l'ho neanche utilizzata Ragazzi Non l'ho neanche ancora Utilizzata La Udi Ragazzi No 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 Vai Dimmi di no ragazzi Dimmi che non si bagga Dimmi che non si bagga E niente Niente E niente Basta che non va Basta che vada il gioco Un attimo Dai dai Però ragazzi Per me non ci facciamo O segna Non vedo Eh no Il padrone è lì Non segneremo mai Ma come fa a sbagliare La parte è gigante Ragazzi Vabbè Ho pure Spiegato la Udi Ragazzi Tanto è impossibile Tanto è impossibile Ragazzi Minuto 3 sconfitta Male Ma lo squeak No Tara Vabbè Ragazzi Non è fattibile Ragazzi Ci proviamo ancora Vai Ci proviamo ancora Per me Per me Si può fare Ragazzi Per me It is possible Si può fare Tranquillamente Ragazzi Vai Allora Vai giochiamo Allora Concentriamoci No No Non va bene Ragazzi Mi devo concentrare Molto di più Sto giocando male E loro segnano Non possibile Ragazzi Dai Solo la prima Non c'è andata bene Ci devono andare bene Tutti Ragazzi Non solo la prima Niente Ancora Dai Va bene Ragazzi Può concentrarmi Molto di più Allora Dai 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 Tira Dai che muoio Dai che muoio Non è che muoio Quello di morto No Ha sbagliato Davanti alla porta Dai ragazzi Una cosa è Una presa in giro Dai Una presa in giro Ragazzi L'ultima partita Devo vincere Per forza Non utilizzo i gadget Miamo così La casa Tanto Puoi rispegare La ulti Ragazzi Credo che Questa partita Qua Sia andata male O segnano Vero che la parola Ce l'abbiamo noi Ma non credo Infatti non segniamo Abbiamo un minuto Ragazzi Eh no ragazzi Non credo Dai Mamma mia Che fortuna Che non ha segnato Ok Almeno l'ho avuto Stavolta L'ho utilizzata bene Almeno la ulti Stavolta L'ho utilizzata bene Però Buonissimo Allora Dai 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 Buonanotte Dai inutile Che giochiamo Tanto vinco a loro Mamma mia Tanto ho vinto loro Ragazzi ho vinto loro Non è possibile Non è possibile Non vincere Non è possibile Non vincere Non è possibile Non perdere Dai Dai Niente ragazzi 15 secondi 15 secondi Ragazzi È impossibile Cioè ragazzi Non è più Non è più fattibile Ragazzi Non è più fattibile Niente ragazzi Ho pure fatto Secondo gol E invece Finita così Eh ragazzi Finita così Vabbè ragazzi Direi che Il video di oggi è finito Mi sono divertito un po' Mi è piaciuto molto Questo evento Però Purtroppo ragazzi Solamente una C'è andata bene La prima Tra l'altro Dato questo ragazzi Vi ricordo di lasciare un like Un'iscrizione Una campanella Condividere i video Tutti i vostri amici Seguite i miei Seguite i miei Seguite i miei Link in descrizione Sesto link in descrizione Per il mio server Discord Primo link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per fare una piccola donazione E quarto link in descrizione Per seguirmi Sul sito viola Dopo il live Allora 10 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao